adesso passiamo all'ultimo haul che sarebbe quello di cult beauty su cult beauty ho preso un pochino di cose e ho avuto anche un mega regalo ho preso l'hydro grip primer di milk questo qui che ormai avete visto ovunque e in tutte le salse lo volevo abbigliamente provare ho preso la confezione grande perché diciamo mi sentivo abbastanza tranquilla dopo le recensioni che ho sentito in giro che non fosse uno schifo poi ho preso una cosa che volevo provare da un botto botto di tempo sarebbe questo sidero di gloresaip all'aniasinamide all'anguria devo far vedere assolutamente il pack principale perché è bellissimo questo io non lo butterò mai nella vita guardate che belli flessi è bellissimo è un'ampollina fantastica e l'ho già provato ed è spettacolare davvero vale tutti i soldi spesi ho preso il kit questo di mini size di Uda Beauty skin care quindi la linea wishful e lo andiamo ad aprire insieme perché è ancora chiuso tanto dopo ne rocca pure mettere a posto questo qua è il kit questo è il kit c'è l'esfoliante viso che volevo provare tipo da una vita e mezza perché era diciamo quello che volevo provare era proprio l'esfoliante poi c'è come seconda parte l'ansiero e i peptidi poi abbiamo la crema honey whip questa qui e infine un olio sempre per il viso alle rose quindi sono tutti prodotti adattissimi per pelle secca ho preso questo e ho sentito parlare tipo tantissimo ed è guardate che bellina anche la confezione interna è un balm per il viso e per il corpo che profuma di tipo mentolo però non quello chimico è proprio come potete vedere se riuscite a vedere è solido questo qui serve per sulla confezione dice che serve per calmare nutrire e rinnovare la pelle secca anche pelle screpolata bumps bites quindi brufoli morsi di zanzara o di insetto stings quindi punture anche sui lividi piccole scottature e graffi lavora benissimo come cleansing balm e per calmare la pelle dopo la dipilazione quindi diciamo che dovrebbe essere un tipo una pozzoncina super magica essendo anche soldo quindi dovrebbe durare anche davvero tanto la confezione in vetro è tutto organico poi lo proverò magari su qualcosa non lo so spero di non potermi graffiare bruciare o farmi pomigliore da qualche bestia ma lo proverò sicuramente anche così come cleansing e vi farò sapere comunque ne ho sentito parlare super super bene passiamo ai capelli si anche qua questa è una roba per i capelli e ho comprato semplicemente la federa per il cuscino di Kish questa qui in seta l'ho presa nera perché vabbè per i capelli ricci e anche per diciamo prevenire le rughe e ho preso anche gli scrunchies sempre in seta infine per importanza ho preso questa qui che è una palette molto particolare di Makeup by Mario che sarebbe il Makeup Artist di Kim Kardashian per farvi capire non è che è solo il Makeup Artist di Kim Kardashian non è diventato famoso per quello diciamo famoso nel senso che conosciuto è un bellissimo Makeup Artist e ha la sua collezione appunto di Makeup e io la volevo proprio questa palette che sarebbe la Master Meta e siete pronti? 3 2 1 eccola qui guardate che cos'è è bellissima una cosa pazzesca sono 5 colori super metallici questa ha un micro palette qui che si toglie perché serve per miscelare appunto questi colori che si possono utilizzare tranquillamente anche da asciutti anzi adesso vi risvoccio pure cioè li potete utilizzare tranquillamente senza cioè così guardate guardate che belli sono pazzeschi quindi si possono utilizzare tranquillamente così normalmente oppure potete utilizzarli Mario ha creato un liquido per utilizzarli appunto bagnati diciamo effetto proprio ancora più metallico con quel liquido purtroppo quando ho fatto l'acquisto il liquido era soldato non l'ho potuto prendere lo prenderò sicuramente però utilizzerò lo proverò sicuramente con il Duraline di Inglot che diciamo più o meno siamo lì ho sentito dire che siamo lì però sicuramente poi lo comprerò e quel liquido fa diventare metallici anche altri shimmer di altre pale andiamo avanti con una bag diciamo tra virgolette il regalo che mi è arrivata sopra la spesa che ho fatto questa giusto per farvi capire è la bag e ve l'aprirò su tiktok ovviamente proverò queste cose un po' per volta non le proverò tutte insieme e farò sicuramente qualche recensione quindi vi rimando ai miei social che sono instagram tiktok facebook pinterest e twitter lì sono un po' più attiva soprattutto su instagram e tiktok se vogliamo rivederci qui sul tubo dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella altrimenti non ci vediamo mai più io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao